Bentornati, bentrovati. Una settimana dopo l'inizio dell'estate, almeno dal punto di vista astronomico, ci ritroviamo su un cammino, su un solco di santità veramente molto ricco. Perché, come vi ho annunciato io stessa, il giorno 16 giugno, è già nel cuore di questo mese, come sapete, c'è l'anniversario della canonizzazione di San Pio. Sabato scorso, in serata, con una solenne concelebrazione e poi con una presentazione del libro che avete visto in anteprima, sono cominciate le celebrazioni per il ventennale della canonizzazione di San Pio da Pietrelcina. Era il 16 giugno del 2002. E dunque tre anni dopo, tra l'altro, la beatificazione, quindi in tempi relativamente veloci. Abbiamo ricordato anche il perché con quel meraviglioso racconto, sempre emozionante, di un miracolo che ha dato un ulteriore suggello. A una santità il cui percorso è sempre un cammino complesso, ricco anche di umanità. Avete visto già delle immagini, continuate a vederle, a presiedere. È stato il cardinale che è il più esperto attualmente nell'intera Chiesa Cattolica per quel che riguarda la santità. Perché infatti Marcello Semeraro, che ha aperto appunto questo ventennale, è il prefetto della congregazione per le cause dei Santi. Tra poco lo rivedremo e lo ascolteremo, ma intanto voglio subito, perché non si ponga tempo in mezzo, salutare Anna Maria, che so che è già pronta in San Pio. Eccola. Ciao Anna. Sì, Maria Pia. Ciao Maria Pia, grazie a te e ben trovati a tutti i telespettatori. Buon inizio settimana. In effetti io sono già pronta, mi hanno già raggiunta gli ospiti con cui oggi ci intratterremo, subito, dopo, insomma, appena mi darai tu di nuovo la linea, perché parleremo, visto che comunque gli esami sono finiti e visto che tutti noi abbiamo avuto una notte prima degli esami, insomma, vogliamo raccogliere e ascoltare la testimonianza di due giovani maturati, maturati, se si può dire così. Allora, incontreremo anche un professore di religione perché vogliamo sapere un po' come sta andando la situazione, se ne parla tanto. Qualcuno ancora dice che questa materia deve essere abolita, però, insomma, controlliamoci su quello che diciamo. Noi siamo qui pronti, vediamo già tantissimi pellegrini in chiesa San Pio. Siamo pronti per restare con voi fino alle 11.30, orario della Santa Messa, quest'oggi preseduta da Fra Giacinto De Gianni. A te Maria Pia. Grazie, grazie Anna. Avete sentito anche i suoi riferimenti sia letterari che cinematografici a quella notte prima degli esami. In effetti io forse sono una delle poche che non ha avuto incubi dopo aver svolto appunto il compito di quello che mi piace chiamare esame di Stato, più che di maturità. Ma noi invece adesso ritorniamo a sabato sera perché vi faccio ascoltare un breve stralcio dell'Omelia del Cardinale Semeraro. E unita alla fede, alla parola, c'è la conoscenza. Cos'è questa conoscenza di cui parla San Paolo? Non è un'intelligenza che gonfia, un sapere che gonfia, che esalta a se stessi, ma la conoscenza interiore, la conoscenza profetica, la conoscenza capace di scandagliare il cuore umano e di soccorrerlo. Di padre Pio è noto, era peculiare, era specifica proprio questa profonda conoscenza interiore dell'animo umano, una conoscenza così caratteristica in lui da permettergli di conoscere le intenzioni di quanti lo cercavano, prima ancora che iniziassero a parlargli. E molti poi uscivano dal suo confessionale meravigliati per la descrizione esatta del loro passato o per il suo sguardo sapiente sul futuro. La sua voce profetica, però, vibrava anzitutto in riferimento al presente delle persone, quel presente su cui solo Dio conosce ciò che è meglio. Parole molto belle, sicuramente nel prossimo numero del mensile voce di padre Pio avrete modo anche di leggere il resto, ma noi adesso diamo subito la parola al padrone di casa, cioè il ministro provinciale della provincia religiosa di Sant'Angelo e padre Pio, la provincia dei Cappuccini con fratelli di padre Pio, perché il momento dopo la celebrazione di presentazione del diario spirituale di Monsignor Valentino Vailati è stato appunto aperto da alcuni saluti, il primo del quale di Fra Maurizio Placentino. Come ministro provinciale dei Cappuccini della provincia di Sant'Angelo e padre Pio ritengo giusto e doveroso. In quest'anno commemorativo per il ventennale della canonizzazione del nostro santo confratello, che comincia proprio questa sera, non solo elevare la nostra lode e ringraziamento a Dio per aver scelto un nostro confratello, un figlio di questa provincia, come modello di vita cristiana, religiosa e sacerdotale, ma anche tributare la dovuta riconoscenza a coloro che hanno permesso il riconoscimento della sua santità. La santità è un cammino divino, nasce dall'elezione di Dio, ma è anche un cammino pienamente umano, perché coinvolge il protagonista nella sua interezza, ma non solo il protagonista. La santità coinvolge la storia, la geografia, i luoghi, le persone, tante persone che ruotano nell'albeo dell'eletto. E questo coinvolgimento un po' comprende anche noi, noi ne siamo un po' testimoni. Ed è un coinvolgimento che supera anche i limiti del tempo. Questa logica, nel caso di Padre Pio, è veramente evidente, molto evidente. E questa sera, cominciando a far luce sulla figura di Monsignor Valentino Bailati, vogliamo iscriverci in questo solco, nel vedere come la santità coinvolge una rete di relazioni. E' dunque molto importante il riferimento anche alla storia, perché naturalmente quando approfonditamente si conoscerà bene in tutti i dettagli la storia di quel traguardo, cioè la Chiesa Cattolica proclama prima Beato, poi Santo Francesco Forgione, Padre Pio della Pietrelcina, il ruolo di Monsignor Valentino Bailati come Presidente del Tribunale, che appunto deve accertare tutte le formalità, ma soprattutto la sostanziale veridicità del processo cognizionale, è evidentemente un ruolo fondamentale. E a proposito di Arcivescovi, non può mancare anche un breve stralcio di quello che ha detto il Padre Franco Mosconi. E' un testo molto contemporaneo e moderno, direi quasi al giorno. Vorrei leggere come saluto un passaggio che è dell'ottobre 1984, è l'anno della mia ordinazione, quindi è un anno che sono andato a cercare in modo particolare. Scrive così, lo vedo proprio al giorno, con quello che si dice nell'opinione pubblica e sui mezzi di comunicazione. Roma, assemblea straordinaria della CEI, tema, revisione del concordato e povertà del clero. O santa povertà, così bella quando non ci sei, e così temuta quando ti avvicini. E' una frase, a mio giudizio, non solo lapidaria, ma che veramente ci lapida, ecco, come Chiesa. Quante parole dette, scritte negli anni post conciliari sulla Chiesa dei poveri o sulla Chiesa povera? E' anche sua eminenza nell'Omelia, prima è partito proprio di lì, come caratteristica di padre Pio, ma della Chiesa. Abbondante la letteratura sulla povertà, piuttosto scarsa ne è la pratica, anche per noi religiosi. Lo vedo frequentando anche gli ordini e congregazioni religiose. Il clero giovane, poi, come giudica, apprezza la povertà evangelica. E termina con una domanda che rimane ancora attuale. E come sempre, padre Franco ci aiuta ad entrare dritti dritti nelle questioni essenziali della Chiesa di sempre, anche la Chiesa di oggi. Quella Chiesa che è fatta anche di arcivescovi emeriti, come Monsignor Domenico Umberto D'Ambrosio, che ha curato, appunto, sia pure con alcuni collaboratori, uno dei quali il nostro direttore, la edizione è così bella che vi abbiamo presentato del diario spirituale di Monsignor Valentino Vailati. E naturalmente non poteva essere che lui a dirci qualcosa di molto interessante su questa figura. Il titolo che lo leggete sulla copertina è molto bello e significativo. Cos'è il diario per lui? Perché scrive il diario? Per un controllo della mia anima. Questo è il titolo del diario. Ed è così. Leggendolo è proprio vero che c'è quest'esame continua tra la chiamata e la risposta. La lettura di queste pagine ci definiscono la statura di chi era Monsignor Vailati. Un uomo di Dio, scritto, consegnatosi a Cristo e alla Chiesa, in una fedeltà che si rinnovava ogni giorno e che nel dipanarsi della contrastata vicenda umana sapeva sforgere sempre il piccolo seme della parola che dilatava gli spazi della speranza. Monsignor Vailati era l'uomo che si lasciava guidare dalla grazia del Signore. I suoi giudizi erano sempre intessuti nella ricerca di quella parola che dava ragione a questa sua serenità. Molto chiare queste parole. Molto interessante ovviamente il riferimento anche allo studio di tutte quelle pagine di cui ha parlato D'Ambrosio. Avete potuto seguire in tanti, certamente. Ecco, qui rivedete un'ennesima volta, ed è giusto che lo facciamo, questo libro così interessante proprio per tutte le sue accezioni, non solo storiche ma soprattutto appunto spirituali. Ma chi ha tenuto la relazione principale è stato colui che ha scritto anche l'introduzione a questo diario, ovvero il cardinale Marcello Semeraro. Sentiamo. Lo ricordo sempre, ecco, direi un Signore, sempre gentile, sempre accogliente, sempre disponibile. E leggere le pagine di questo diario mi conferma nel pensare che questo non era soltanto un tratto esteriore, ma anche, e più ancora, uno stile di vita. Avere tra le mani il diario spirituale di un sacerdote e poi anche di un vescovo è sempre molto significativo, molto importante, anche perché accade nella vita spirituale accade sempre qualcosa di simile, di analoga a quanto avviene nella vita fisica, nella vita morale, nella vita intellettuale. non si nasce e non si cresce mai da soli, ma sempre in un tessuto, in un contesto di relazioni. La nostra vita è come un telaio nel quale si intrecciano fili diversi ed è per questo che la nostra vita non può diventare mai uno straccio, ma è sempre quella che nella Bibbia, a proposito di Giuseppe, il figlio di Israele, di Giacobbe, è chiamata una tunica con le maniche lunghe. E avete sentito dunque anche questa immagine. Il cardinale Semeraro ha parlato molto anche del fatto che Vailati è stato un po' un precursore dello stile della sinodalità e quindi si tratta di questioni, come vi dicevo, sempre molto attuali, così come lo scoprire la storia di un'anima anche attraverso queste pagine che certamente se sono state pubblicate non è per spirito di indiscrezione o di curiosità. Anzi, sappiamo che alcune pagine sono state eliminate, sono state espunte dai curatori. Ma adesso noi, tra pochissimo, anzi per meglio dire, avremo un'altra testimonianza perché con Anna Maria Salvemini abbiamo potuto scoprire anche un'altra figura importante sempre di quegli anni, ovvero Don Michele Nasuti con la sua testimonianza da notaio proprio nel medesimo lungo processo verso l'altare di Padre Pio. Monsignor Valentino Vailati, importante pastore per Manfredonia dal 1970 al 1920 e fu importante anche il suo ruolo nella storia della santificazione di Padre Pio. Don Michele, il tuo ricordo di Monsignor Vailati? Vent'anni non si possono raccontare in pochi minuti. Diciamo solo un particolare che riguarda la vita di Padre Pio. Nel 1982 io avevo appena finito di costruire la chiesa e venne Monsignor Vailati da me nella chiesa Sacra Famiglia davanti alla porta e disse con il suo accento pacato Don Michele tu devi fare il notaio nella casa di Padre Pio. Eccellenza, io a Padre Pio non ci credo come faccio a fare? Tu non ti preoccupare tu devi scrivere quello che dico io. Attenzione, io risposo a Padre Pio non ci credo perché molti non sanno che negli anni precedenti almeno fino alla morte di Padre Pio noi clero, noi seminaristi, noi della diocesi eravamo quasi indotti, educati o diseducati a non avere grande stima di Padre Pio perché negli anni 1960 l'ultima ci fu una vista molto grave che addirittura eliminò la provincia di Padre Pio quindi questa mia diffidenza di Padre Pio era motivata da questo atteggiamento del clero di Manfredonia e anche con il sopporto del vescovo a non esaltare troppo Padre Pio questo poi alla sua verifica quando Bailati è stato nominato al vescovo di San Severo nel 1960 Giovanni XXIII che noi viviamo qui alle spalle disse a Monsignor Bailati questo Monsignor Bailati ce lo riferì durante il processo di Padre Pio che era stato molto lungo sette anni e c'erano delle pause fra un testimone e l'altro allora Bailati raccontò che Giovanni XXIII mi disse ti raccomando figlio mio tu vai in una terra di missione perché i vescovi venivano tutti dal nord allora e il sud era la terra di missione secondo tu non devi mai andare da Padre Pio terzo omnia vedere pauca corrigere molta dissimulare significa tu fai e vedi tutto poi qualcosa fai finta che non la vedi e correggi poco quindi già questo stile suggerito da Giovanni XXIII omnia vedere molta dissimulare pauca corrigere indica un po' anche la direttiva di Monsignor Bailati uomo pacifico certamente contrario del mio modo di vivere vivace attivo quindi ho avuto questa gioia questo onore di essere nominato notaio nella causa di Padre Pio che è durata sette anni quindi durante questi sette anni quasi ogni settimana ci si vedeva con l'arcevescovo con tutto il tribunale e io ero addetto a scrivere ahimè a mano perché allora computer eccetera eccetera non c'erano queste cose qui e quindi si scriveva così non è importante il mio atteggiamento verso Padre Pio se è cambiato come è cambiato naturalmente ma è importante che Padre che Valentino Bailati abbia avuto fiducia di Padre Pio perché alla morte di Padre Pio io c'ero ai funerali c'era eravamo un'infinità di preti tutto con la vesta allora avevamo e qualche vescovo questo poi lo dicono loro quelli che sono più documentati di me e sicuramente lo spirito di Don Michele Nasuti è sempre inconfondibile così come preziosi i suoi ricordi ma se ci è sembrato un tuffo un po' nel passato forse anche perché abbiamo visto una sfilata di figure maschili sappiate che non è così subito dopo gli spot avremo un ospite che ci racconta anche di cosa significa avere appunto un carisma tutto al femminile promosso proprio da lui da Monsignor Vailati vi aspetto grazie a un ospite in studio è Suor Paola Barenco ben arrivata grazie tra poco avrà anche un volo da Bari per tornare alla sua Genova vuole raccontarci come la vostra congregazione che tra l'altro ha la Madonna la Regina Apostolorum nella denominazione sia nata proprio grazie a questo arcivescovo diciamo che questa questa genesi della nostra congregazione ha delle radici profonde perché risale al tempo di guerra quando Monsignor Vailati era parroco in un paesino della diocesi di Tortona però vicino a Genova e dove la nostra fondatrice era sfollata perché lei era una manager di macchine per ufficio a Genova di una ditta milanese e la nostra fondatrice fece un sogno vogliamo ricordarne anche il nome Suor Ada Taschera a quei tempi non era suora era Ada Taschera la signorina Ada Taschera e lei fece un sogno ecco da notare che la nostra fondatrice non è che fosse una praticante per eccellenza come potremmo dire ecco però lei fece un sogno e sognò un sacerdote molto stracciato malmenato povero bisognoso e nella stessa notte fece anche un altro sogno cioè di un sacerdote che andava con tutto parato diciamo che andava verso di lei con lo stensorio in mano e andava verso di lei e lei diceva ma no ma io non sono degna e si buttò a terra perché poi si svegliò e aveva molto chiaro il volto di questo sacerdote però cercava questo volto venne la festa di San Giuseppe e andò nella chiesina dove era sfollata e vide proprio questo sacerdote che era quello che corrispondeva al suo sogno e questo sacerdote stava facendo una omelia proprio su San Giuseppe allora lei andò al confessionale e andò a confidare il suo sogno a quello che era Don Vailati no? e il quale disse ma questo è un bellissimo sogno e tra l'altro noi ovviamente dobbiamo sintetizzare saltare alcuni passaggi ma lei vedo che tiene stretta ancora il libro che è stato presentato qui e di cui vi abbiamo parlato a lungo già nella prima parte del programma perché? perché troviamo nel diario proprio riguardo però a parecchi anni dopo nel febbraio del 1959 un passaggio che può essere importante come lo interpreta? e beh veramente è una grande conferma per noi anche per noi della congregazione perché lui scrive nel 59 in realtà è un diario che racconta avvenimenti già avvenuti perlomeno 15 anni prima ecco e lui dice una cosa bellissima io non avrei mai pensato di essere strumento della fondazione di un'opera e dice e poi dice incontrai la signorina taschera e mi raccontò i suoi sogni e le sue ispirazioni e io dissi qua c'è proprio la mano di Dio e poi arriveremo agli anni 90 quando ci sarà l'approvazione e lei come madre generale di questa congregazione adesso che è stata in visita qui a San Giovanni Rotondo adesso che siamo in un altro secolo in un altro millennio che cosa porterà con sé ma certamente il ritornare ai luoghi anche proprio dei nostri fondatori perché io comunque personalmente Monsignor Vailati non l'ho conosciuto e soltanto le prime le prime nostre suore l'hanno conosciuto perché io mi sono fatta suora poi nell'86 e non l'ho conosciuto personalmente però certamente per noi che siamo venute dopo andare a leggere ad esempio gli scritti di Monsignor Vailati le lettere che la fondatrice stessa scriveva a Monsignor Vailati del resto la nostra prima regola è stata scritta da lui il nome piccola opera Regina Apostolorum l'ha data lui ecco per cui per noi venire oggi e ascoltare e rileggere perché io me lo sono letto anche prima di venire qua il diario veramente è un grandissimo dono perché per noi ritornare alle nostre radici significa ritornare proprio alla fonte poi alla fonte dello spirito santo perché comunque il fatto che Monsignor Vailati riconoscesse nell'ispirazione della fondatrice un dono dello spirito e lui stesso desiderava fare qualcosa per i sacerdoti cioè è veramente ritornare ad ammirare quanto il Signore è buono e quanto è proprio lo spirito che genera gli incontri che li fa proprio fa incontrare due ispirazioni simili prima di salutarla e di darci appuntamento quando la provvidenza vorrà per riparlare della vostra opera del vostro carisma lei tiene un diario spirituale o meno io sì auguri allora perché abbiamo imparato tanto sul significato di queste parole che a fine giornata mettiamo su carta grazie 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 a tutti a Paola Barenco ma per noi invece adesso è il momento di viverla intensamente questa mattinata anche grazie a quel collegamento in diretta che già vi avevamo promesso nel saluto iniziale andiamo nella chiesa a San Pio dove ci aspetta Anna Maria Salvemini a te Anna Maria grazie grazie ancora a te Maria Pia sì ci ritroviamo qui in chiesa San Pio non con dei pellegrini ma possiamo dire con dei concittadini di Padre Pio perché ho a fianco a me un professore di religione di San Giovanni Rotondo benvenuto Luigi buongiorno a tutti e due ragazzi la maturità 2021 ho visto impegnati circa 500 mila candidati non c'erano le prove scritte si è svolto in presenza noi abbiamo due di questi 500 mila sono Andrea e Antonio ben trovati grazie per essere venuti qui grazie a voi buongiorno buongiorno a tutti allora sì qua dobbiamo fare un po' il giochetto con il microfono devi andare di qua e di là siamo a dire il vero non all'aperto oggi abbiamo detto addio alle mascherine all'aperto siamo insomma a metà tra il chiuso e l'esterno allora io inizio subito da Luigi Placentino insegnante di religione da circa 26 anni forse qualche anno in più laureato in psicologia perché per essere a contatto con i ragazzi è sempre utile conoscere anche la loro psiche la loro mente e quindi un impegno una missione che sta avendo successo anche perché loro sono due dei tuoi studenti allora insegnamento della religione cattolica se ne discute sempre sempre c'è chi la vuole eliminare dalle scuole c'è chi la vuole con forza perché comunque sono lezioni di vita non tanto di religione certo no il dibattito è da sempre ma io sono sempre più convinto che i ragazzi hanno bisogno di fare di fare questo viaggio verso nel proprio viaggio all'interno mi immagino nel proprio spirito spirito in senso lato soprattutto poi in istituti come quello dell'ITIS dove ci sono stati questi due ragazzi dove giustamente c'è tutto un apprendimento tecnico perché poi magari devono essere degli esperti tecnici maggior ragione l'uomo ha bisogno di altro secondo me la religione se vissuta in un certo modo la religione a scuola può offrire questo altro sono convinto di questo io mi sforzo per fare questo per stimolare questo viaggio dentro loro stessi che poi significa anche riflessione significa anche percepire che la realtà è molto più estesa di quella che ci vogliono far immaginare cioè che deve essere produttivo devi produrre devi creare prodotto certo è importante ma forse l'uomo ha bisogno di altro insomma e religione può offrire quest'altro ecco insomma il risultato poi è visibile agli occhi di tutti perché un professore di religione che riesce a portare due ragazzi in piena estate qui in chiesa San Pio dovevano potevano stare tranquillamente anche al mare o comunque a divertirsi o a riposarsi invece hanno deciso di venire qui e dare la loro testimonianza io ad Andrea ad Antonio chiedo quello che forse vi chiedono tutti in questo periodo soprattutto dopo la maturità cosa volete fare da grandi Andrea beh il mio obiettivo è quello di andare all'università di scienze informatiche perché sappiamo anche l'abbiamo visto anche con il covid in questo periodo quando si è importante l'informatica al giorno d'oggi ce la troviamo ormai dappertutto è poi un campo che piace a molti giovani soprattutto perché è un settore che fino a pochi anni fa veniva sottovalutato e finalmente c'è stato un qualcosa per valorizzarlo e quindi sono felice di contribuire in questa avanzata di questa tecnologia che farà passità gigante loro sono due pezzi da 100 me li ha presentati così il professor Luigi Placentino da 100 perché sono usciti con una maturità di 100 come funziona su 100 congratulazioni anche da parte mia da parte di tutto il nostro studio c'è Maria Pia che fa le congratulazioni a voi io sono l'azia dei 300 quando un anno hanno avuto l'esame di stato appunto in tre dicevo sempre tutta l'estate io sono l'azia dei 300 quindi colgo l'occasione per fare un saluto anche a chi però non è arrivata al massimo come ad esempio io stessa ai miei tempi erano in sessantesimi e arrivai solo al 56 a te Anna Maria evitiamo questo discorso evitiamo questo discorso anche io non sono mai stata da 100 allora vado da Antonio perché anche lui ha la passione per le scienze informatiche e ovviamente ci si è resi conto come diceva lo stesso Andrea di quanto sia importante noi ci sentiamo un po' antenati io Luigi il professor Placentino il tecnico che è dall'altra parte Antonio a te come è nata questa passione ce l'hai sempre avuta perché la faccia un po' ce l'avete di chi ha sempre avuto questa passione sì sicuramente è una passione che nasce sin da quando si è piccoli noi siamo una generazione che è nata con dispositivi informatici sempre a portata di mano quindi sicuramente la curiosità è nata sin da piccoli sono passioni che nascono ovviamente da quando si è piccoli ed è un settore che anche a livello lavorativo può dare molti sbocchi lavorativi sicuramente è un settore che è in crescita e in ogni settore dell'economia c'è una parte informatica è vero hanno saputo cogliere il tempo è quello giusto io torno dal professor placentino perché lo dicevamo sono lezioni di vita quelle che si svolgono a scuola nell'ora di religione quando un ragazzo è disinteressato alla materia qual è la metodologia da adottare? sicuramente ti sarà capitato di incontrarli bella domanda secondo me l'abilità sta nel stimolare quella nota che fa capire che stiamo lì per la sua vita perché il problema è della regione a scuola per un ragazzo di scuola superiore soprattutto è legato al discorso che me ne faccio che mi serve non fa media non mi aiuta ad essere informatico non mi aiuta ad essere ecco allora nel momento in cui un ragazzo riesce a scoprire che forse non stiamo perdendo tempo ma stiamo facendo qualcosa che lo aiuta a vivere meglio o comunque ad arricchirsi da altri punti di vista allora lì scatta quel meccanismo che purtroppo non sempre riesco a far scattare però il mio obiettivo è quello la strada che uso sempre non so se loro se ne sono resi conto è quello di di sviluppare un pensiero e soprattutto di sviluppare l'arte del confronto quando i ragazzi si confrontano secondo me apprezzano e si apprezzano a parte che si arricchiscono apprezzano e apprezzano anche l'insegnante questo non perché io debba essere apprezzato però il passare se un insegnante apprezzato puoi offrire qualcosa di interessante ma se non già la materia è quella che è poi se non apprezzano l'insegnante comunque è un incentivo in più anche per l'insegnante stesso allora voi siete maturi davvero vi sentite maturi davvero o avete bisogno di tanta esperienza ancora ovviamente è normale che sia così certo un po' di esperienza non guasta mai però ci sentiamo abbastanza pronti perché questo è il periodo in cui dimostrare veramente chi siamo e quindi dobbiamo cercare di dare tutti noi stessi anche perché quando uno lavora per ciò che ama per quello che è la sua passione viene tutto più facile quindi speriamo di essere maturi abbastanza anche perché la maturità l'ha dimostrato quindi speriamo di continuare in questo percorso è vero è così allora ad Antonio faccio l'ultima domanda com'è stato essere nell'ora di religione con il professor Placentino se dovessi dare un consiglio a tutti i ragazzi per scegliere perché comunque ricordiamo la materia di religione è una materia che si può scegliere di fare e non fare quindi di ampia libertà sicuramente è un'ora che favorisce l'arricchimento del proprio bagaglio culturale perché soprattutto grazie al docente sono avvenuti scambi di opinioni anche da alunni che erano in posizioni totalmente opposte anche perché sicuramente si può dire che è facile esporre il proprio punto di vista ma non è altrettanto facile ascoltare chi abbiamo di fronte per conoscere ancora di più di quello che non sappiamo quindi sono temi che sicuramente sono importanti per la vita di ciascuno di noi a volte pensiamo ma quando mi capiterà mai per esempio di dover scegliere di fare qualcosa sull'etanasia oppure su tanti argomenti della bioetica invece sono scelte che argomenti che vanno trattati sin da quando si è giovani per poter comprendere Anna Maria che bravi ragazzi se posso dare altri 20 secondi e posso per favore visto che nella maglietta spicca il nome di Socrate nella maglietta del prof chiedigli se ha mai messo insieme Socrate e Gesù in una lezione sì come no allora Maria Pia chiede se hai mai messo insieme Socrate e Gesù in qualche lezione visto che ce l'hai stampato sulla maglietta forse forse no però questo ciò che è scritto su questa maglietta è ciò che mi spinge diciamo il leitmotiv delle mie lezioni insomma e questo vorrei far capire anche loro questa ricerca continua della verità che ovviamente poi per noi che siamo cristiani sappiamo che la verità insomma se ci arrivi è Gesù Cristo fondamentalmente però per arrivare a Gesù Cristo bisogna ecco avere la mente onesta e cercare la verità senza paura di perdere qualcosa senza paura di avere torto di avere ragioni scontrarti insomma quindi sì Socrate è un buon esempio un po' in punto di riferimento almeno iniziale diciamo bene abbiamo soddisfatto anche la curiosità di Maria Pia e forse di qualcuno a casa che ci sta seguendo in questo momento io voglio fare i complimenti a voi ragazzi e tanti auguri grazie per uno splendido futuro anche insomma nel campo dell'informatica complimenti a te prof perché evidentemente se loro sono bravi è anche merito di tanti docenti come il professor Placentino a proposito di filosofi o di personaggi che hanno anche preceduto Gesù c'è Confucio che dice non esiste una strada per la felicità la felicità è la strada e noi se andiamo per strada e diamo uno sguardo al prossimo sicuramente la felicità la possiamo trovare grazie a tutti grazie a tutti